in genere i matrimoni oggi non è che funzionano tantissimo però ci possono anche essere delle eccezioni ragazzi per favore i saluti mi servono tre o quattro di voi subito per favore urgente mio amico quello quello è un conoscente tipo buongiorno e buonasera ma che sei matta che c'ho qua amici io apriamo apriani entra 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 scusate hanno detto i ragazzi che se li saluti non lo devono andare a mettere cosa alla macchina che faccio li saluto così ragazzi sono tutti i ragazzi fidanzati vabbè fagli entra così dai beh ancora a casa stai aspetta 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 c'è la scena che mi piace non capisco più niente quando fa quella mossa con la testa hai ragione l'ho già visto tre volte questo mese oddio che sogno siete venuti a incontrare matrimonio in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione adesso come no che si 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 jessica ricevi quest'anello simbolo del mio amore e della mia fedeltà nel nome del padre del figlio e del del ma che ti sei ingrassato il dito ma che sei scemo che ti ha fatto ma non era visto su sassi ma che si fa così ciao lì ciao sghi ciao ma ciao pa ciao fra ciao no ciao zi non va preoccupare che tre venti giorni li fanno tutta la capo sei replica ciao giù ciao sghi al contempo riga c'ho riso dentro tu qua c'è uno stani a santa maria di lunedì ma santa maria di lunedì ma un dritto pedrillo basta basta non ce la faccio più oh è finito Grazie per la visione